Tronchi e detriti, una foce completamente ostruita col normale flusso delle acque compromesso, una barriera che continua ad alimentarsi con ogni piena nelle disinteresse generale, nonostante i cambiamenti climatici e le precipitazioni violente rappresentino serio pericolo, purtroppo già sperimentato in altre zone d'Italia. Ecco la foce del fiume Sangro nel pieno della costa dei trabocchi, da lontano 2017 nessun intervento di pulizia è stato effettuato con un corso d'acqua che nel passato ha dimostrato portata imponente possibilità di tracimare una forza difficile da contenere. L'ex ponte ferroviario su cui ora poggia la via verde è alta barriera di enormi tronchi e rami spezzati che da monte scivolano a valle. In caso di bomba d'acqua cosa potrebbe accadere? Il sindaco di Torino di Sangro più volte ha chiesto a provincia, regione ed organi competenti un intervento di rimozione. Richieste vane e ai margini del Sangro sorge una fiorente attività ricettiva. Nino Difonso. Se arriverà una bomba d'acqua cosa succederà al mio territorio avendo anche un cabbeggio ridosso di quelle del fiume ma è un lungomare che può succedere sia a Fossacese e a Torino di Sangro? penso che dobbiamo prevenire prima che succeda. Da quanto tempo non viene pulita la foce? Guarda io sono cinque anni che faccio sindaco non è stato mai pulito. Quanto è l'importo per pulire una foce da tronchi, alberi e retriti vari? Guarda io penso che 30-40 mila euro si faccia il lavoro. E non ha avuto nessuna risposta? Nessuna risposta. Ci sono le emissive in comune se volete domani quando andiamo in comune lunedì ci sono tutte le mie emissive inviate e tutte le emissive rinviate a questo ente. Però dispiace che si spassa e buscare la cabbarina. Questione di sicurezza ma anche di decoro col fiume Sangro che rappresenta patrimonio naturale ed ambientale da preservare. Il sandwich e villaggio turistico affollatissimo. Sentiamo il titolare. Tanti anni fa è successo il discorso del ponte che è crollato sempre per quel motivo però penso che qua rischio non ci stanno però se si pulisce è più bello pure per i turisti insomma. E' più sicuro per tutti? E' più sicuro per tutti. Io ringrazio speriamo che venga pulita. Le cose come vanno a proposito? Bene bene la gente apprezza molto la pista ciclabile sono veramente contento e cresciamo ogni anno non sappiamo dove mettere più le persone. E quindi un po' di cura da parte degli amministratori non sarebbe bene. E' una cosa molto bella.